Ha già incontrato il direttore generale dell'Asla Toscana Sudeste Antonio D'Urso, Marco Zucchini, nuovo direttore della unità dipartimentale semplice dell'ortopedia della Fratta e si dice entusiasta. Il suo incarico è già partito il 1 novembre, l'obiettivo è rafforzare il gruppo degli ortopedici che lavorano all'ospedale della Valdichiana Aretina. Sono molto entusiasta dell'incarico che mi è stato affidato, quello di dirigere l'unità operativa semplice dipartimentale di ortopedia dell'ospedale della Fratta, l'ospedale della Valdichiana Aretina. È un onore per me, l'incarico è partito dal 1 novembre, io ho un'esperienza ormai pluriennale di lavoro, in particolare nell'ospedale di Arezzo, dove mi sono occupato molto di traumatologia, ma anche di attività in elezione, soprattutto di protesica, di protesica robotica. L'ospedale della Valdichiana ha bisogno di essere rilanciato ulteriormente, ha bisogno di rispondere appieno ai bisogni dei cittadini della Valdichiana, quindi faremo in modo che sempre meno pazienti siano costretti ad operarsi ad Arezzo, come è successo un po' fino adesso, quindi nell'ambito delle possibilità di pazienti che non sono a rischio, e quindi che non hanno necessità di rianimazione, di poter essere operati alla Fratta. Voglio riorganizzare l'ambulatorio, il pronto soccorso, per la parte ortopedica ovviamente, perché sia data una risposta quanto più possibile puntuale, rapida ed efficace. Queste sono le sfide per il futuro. Oltre a questo, vogliamo anche incrementare l'attività in elezioni. Io mi sono informato già per la possibilità di sviluppare la chirurgia robotica fatta in tanti anni qui ad Arezzo, anche nell'ospedale della Fratta, e spero che questa possa essere la sfida dei prossimi anni. Con questo riusciremo a dare lustro a questo ospedale, ad essere attrattivi anche per le realtà circostanti, e in più, come ho detto prima, dare una risposta puntuale ai cittadini della Valdichiana.